E abbiamo fatto bene a venire qua con un po' di campagna agricola e ancora le antiche fattorie, bene. E così continua ragazzi? Si, si continua sempre però, io e Mauri a elaborare tutti questi video. E va bene, c'è anche il discorso che insomma il tempo è quello che ci sono tanti file da recuperare anche delle nostre precedenti esplorazioni, soprattutto Gelli e quindi giustamente... Devo ancora elaborarli, giustamente. Per quanto potrò, nel senso il tempo a nostra disposizione, però ci siamo sempre cari amici. Eh Mauri, un cancello inossidabile, impossibile, non si può entrare cari amici. Eh com'è, com'è questo cancello? Eh questo cancello è bello, invitante, artico, però non si può entrare, l'hanno chiuso. È un cancello fortissimo. E Mauri, dobbiamo, adesso cari amici, darò la dimostrazione della forza di questo cancello che è talmente resistente, adesso do, aspettate un minuto, aspettate un asemino eh, aspettate un asemino. Un cancello inespugnabile, cari amici, guardate, non si può passare. Fai vedere Mauri, prendi la telecamera, fa vedere come non si può assolutamente impassare da questo cancello. È un cancello inespugnabile e non si può passare. Fai il giro Mauri per far vedere com'è incredibile. Invece si passa di qui, si passa di qui perché si fa tutto il giro di qui. Cari amici, vedete questo cancello? E da dietro è inespugnabile, è altico questo cancello. Nessuno può entrare da un cancello inespugnabile. Eh Mauri, ma qui c'è una piccola apertura. Sì, una piccola. Ma piccola però. Questo è un altro tiro che è un altro tiro al cancello. Non so neanche di dare. Ci sono vari parti. Vari aperture con le persone però che passano. E qua degli alberi sensazionali. Tutti storti così. Bene Mauri, Cascina Burattana. Cascina Burattana. Guttaro Sizio. Mi dicevi allora... Mi dicevo che questo arc qua c'era una scala dove anche via con sonno ci siamo saliti su. E lì era proprio abbandonata. Qui un po' meno abbandonata perché ci sono le estracomunitari che vengono a dormire probabilmente. Praticamente qua senza tetto cari amici dormono qua. Facciamo vedere come... Venti Mauri... Insomma c'è un po' di coso però... C'è veramente cari amici c'è gente che riesce a dormire così. Sì. C'è la batteria che si sta scaricando. Sì ma tanto ne ho quella di riserva. E allora cari amici praticamente superano questo piccolo grovido di roba e dormono qua dentro. Però Mauri è un bello stanzino. Ci riesce quindi si riusciva a entrare e naturalmente salvo complicanze malterribile. Vabbè. Comunque niente... Vabbè si vede che è stata effettivamente abbandonata. Probabilmente perché c'era della gente che aveva trovato rifugio qui per le... Per le intemperie. Per le vacanze. No perché... Sì sì sta scherzando Mauri. No comunque devo dire che hanno chiuso tutto qui qua da metto. Vedete? Sì hanno chiuso tutto cari amici. Prima entravano proprio dentro. Perché addirittura... Perché ci sono state le preoccupazioni no che... Eh i tavolini. Incredibile. Sì si sono detto che le immobili. E poi di qua abbiamo a parte bellissimo riproducetelo uguale che è molto bello e tipo un fornelletto. Bene bene. Bene bene. E Mauri continua? Sì. Magari... Io penso che... Eh tu che... Penso che... Quindi che idea ti dà questo posto. Sono fatto che non è stato abbandonato... È stato abbandonato ma... Non è stato abbandonato diciamo di recente ecco. Diciamo che ha avuto una sua storia... Vabbè diciamo di... Eh... Ma bisognava ristrutturarla... I muri sono... Tengono ancora... Tengono... I muri... Assolutamente... Si non aveva fatto le case vecchie ancora di una volta... Eh... E quindi... Dava l'idea eh... Vedi i mattoni... La possibilità di ristrutturarla però... Vissuto in case... Beh non di corte come questa qui però... Il ferro di cavallo... In cascine... Si... In cascine dove... Si era questo tipo di struttura qui... Io faccio la foto al ferro di cavallo perché è forza fortuna... Eh... In teoria... In teoria... In teoria... Io voglio vedere... Ecco... Così... La cascina burattana... Sappiamo... Il problema delle cascine qual è? Che una volta... Davano... 23 centesimi di euro... Al litro di latte... Uno aveva le mucche... Ma... Se danno 23 centesimi di litro al latte... Eh... Infatti... Non è conveniente... Ma poi qui... Si spopola... Qui le cose... Vedete... Troppo... Eh... Le cascine si spopolano perché... Non c'è più... Non c'è più... L'economia non gira... Però comunque... Qui è stato abbandonato da pochi anni... Secondo me... Si... Sicuramente... Un bordello qua... Mauri... Eh... Comunque... Magari... Le... Le parti in maiolica così... Sono bellissime... Le parti in ceramica... Eh... Mauri... Ci sono delle parti in ceramica... Veramente spettacolari... Io sto facendo le foto perché qui... Eh... Sì... Eh... Le foto perché... È bello... È bello... Eh... Qualcosa di spettacolare... Allora... Riguardiamolo come era un tempo... Addirittura... Un palo della luce... E... E... Quindi qualcosa... Io penso addirittura... Una cosina dei tempi... Guardate come è antica... Che stava qua davanti... La signora Mariuccia... Ma... È vero... È vero Mauri... Immagino la signora Mariuccia qua... E... Bene... E... Com'è che si chiamano le... Le... Le luci esterne... Ah... Poi quella lucina... Sì... La lucina esterna... Bellissima cari amici... Abbiamo fatto vedere un po' i particolari... Quindi... 25 gennaio 2022... Gennaro Gialmini e Mauri... Del nuovo salotto del Mauri... Conclusione Mauri... Un pensiero... Come sempre... Siamo urbe... Abbiamo iniziato l'anno... Con quest'urbe qua... E... E... Qual è il futuro che può esserci... Con quest'urbe... Magari domani qua... La rimetteranno apposta... O un... Agriturismo... O... Che bene... Qualcosa per... Con le mucche Mauri... Con le mucche... Tante belle mucche... Perché... È giusto che sia così... Sì... Infatti... Io penso che... Mauri... Le cose... Più semplici... Sono le migliori... Infatti... Infatti... Assolutamente... Ebbene... Cari amici... Eh... Abbiamo fatto vedere... Quello che oggi... Sperando che domani... Eh... Mi raccomando... Ristrutturate... Cascina Burattana... Bustarsizio... Cascina Burattana... Di Bustarsizio... Ristrutturatela... Perché... Infatti... Eh... Sperarebbe veramente... Eh... Qualcosa... Ok... Cascina Burattana... Di Bustarsizio... Mi raccomando... Ristrutturatela... Oggi si presenta così... Al 25 gennaio... 2022... Ciao a tutti... E cari amici... Sempre a Bustarsizio... 21 marzo... 2022... Siamo al Giardino di Dante... E Mauri... Cosa... Fanno pensare... Eh... Questo è proprio... Bello... Pranzi tutto... A un posto... Quasi giapponese... Poi è una primavera... Che è... Praticamente scoppiata... Finalmente... 21 marzo... Finalmente... Primavera... Ci voleva... E qui... Le piante... Sono proprio giapponesi... Sì... 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 Sono giapponesi... Sembra di stare a Tokyo... Allora... Prendi la videocamera... Mauri... Facciamo... Rapidamente... Vedere il bello... Sì... Attenzione... Non inciappare... Perché... E guardate... Cari amici... Cosa... Stupendo... Giardini di Dante... Con queste piante... Orientali... C'è la batteria che sta andando... Sembra di stare a Tokyo... C'è la batteria che sta andando... Vedi... La batteria... Sei al limite... Vedi... E Mauri... Allora... Si continua... Cari amici... Ciao a tutti... E guardate che bello... Cari amici... Fiori stupendi... Orientali... Orientaleggianti... Sembra di stare a Tokyo... In Giappone... Prima giornata di primavera... 21 marzo... 2022... Gianni e Mauri... E siamo a Bustarsizio... Provincia di Varese... In questo bellissimo parco... Dei giardini... Di Dante Alighieri... Mostriamo... Queste bellissime piante... Tutti i giardini... Della loro bellezza... Lì... Un posacenere... È andato in fumo... Un posacenere... Un posacenere... Un posacenere... Un posacenere... Benissimo... Un posacenere... Un posacenere... Un posacenere... Un posacenere... Eccolo... Bene... Eccoci... Eccoci... Per una zingarata... Cari amici... Dopo la fattoria... Tutte... Le varie cose... Che vi siamo a fare... Finalmente... Gennaro Germini e Mauri... Parco del Sciminiere... Parco del Sciminiere... Parco del Sciminiere... Parco Milani... A Busto Assizio... A Busto Assizio... Sempre... Qua in provincia di Varese... Questi bei filmati... Saranno... Per ricordare... Questo periodo... Siamo... Il 18 marzo... 2022... Però... Frendendoci a Mauri... La nostra libertà... Sì... Infatti... Sarà... La nostra presa di libertà... Inizio della primavera... Che... Mai siamo a pochi giorni... Dall'inizio della primavera... Anche se il cielo è un pochino più fresco... Però... Ormai... Siamo fuori dall'inverno... E quindi... La stagione... Promette bene... Promette bene... Ma soprattutto... Ci prendiamo al nostro spazio... Sì... È facile... Il nostro spazio... È... Vivere... Vivere la vita... Con la sua semplicità... Però... Almeno... Poter dire... Oh che bello... Ci siamo... Godiamo... Delle cose belle... Che... 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 Ci sono permesse... Cari amici... Quello che ci ha ancora permesso... Perché... In questi due anni... Abbiamo sperimentato... Cos'è la libertà... Quando ci è venuta a mancare... Due mesi... Due mesi... Di chiusura... Due mesi... Due anni... Due anni... Di disperazione... Però soprattutto... Due mesi... Di chiusura... Di clausura... Che... C'ha un po'... Noi eravamo... Preparati... Ma... Ci ha un po'... Diciamo... Messo... Terrore... Per questa cosa... Che... Siamo... Che... 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 La libertà è importante... Poter andare al parco... Sta qui tranquillo... Si... Sembra una cosa... Pensate che... Due anni fa... Questo periodo... Ma... Qua si poteva stare... Esatto... Chiudevano i parchi... Ma... La cosa incredibile... La libertà... Ma è una piccola cosa... Cioè... Poter venire a un giardino... Uno dice... Cosa stai facendo... State... State andando al giardino... Qua è incredibile... A volte... Togliere... Questa serenità... Di poter... Fare questo... Semplice... Quindi... La vita invece... Deve essere questa gioia... Eh Mauri... Di poter... Fare queste cose... È inutile fare questa cosa... Però... Poter godere... Si... Di queste cose... Di un minimo di libertà... Anche perché... Neanche il parco... Potevi goderti... Di anni fa... Se uscivi di casa... Per andare un po' più in fondo... Se non avevi un animale... Un cane... Che portavi... Che beccavi una multa... Ma... Era una vita questa... C'è sempre questo errore... Troppi calcoli... Tantissimo... Ma a volte... È un film... È un film... È un film... E a volte la realtà... Supera molto la fantasia... No... Ma proprio un film... È... La vita è un film... La vita è un film... Bellissimo... Cari amici... Quindi le ciminiere... E adesso poi... Andremo anche a vedere... Com'è all'interno di una ciminiera... Che funzionava col carbone... Si... Infatti... Quindi una volta... Invece del Parco Bello... Avremmo avuto tanto carbone... Però... E questa... E questa... La ciminiera... Eh Mauri... La ciminiera... Com'era proprio una volta... Come... Ricorda... Diciamo... Un passato industriale... Che bello... A noi ci piaceva... Perché era lavoro... Mauri... Era lavoro... E... Quando... Quando... Quando la vita era bella... Bella... Ricca... Di cose belle... Però tornerà... Ad essere così... Adesso andremo anche a vedere... Quest'altra ciminiera... Ok... La ciminiere... A Bustarsizio... Questo parco... Che abbiamo... Un tempo... Questo parco... Una volta... Era proprio... Le fabbriche stesse... E l'entrata principale... Era questa... Entrata qui... Gigantesca... Antica... E... La ciminiere... Qua si metteva il carbone... E lì... Il materiale... E la ciminiera... Enormemente alta... Questa principale... Pensate... Bene... Bene cari amici... Sempre... Al 18 marzo... 2022... Si continua... Questa... La vecchia fabbrica... E questo... Il laghetto... Che hanno fatto... E cari amici... Questo parco... Via Ugo Foscolo... Il secondo parco... Di Bustarsizio... Dopo quello... Del ciminiere... Ecco... Che è un poco... Stile... Alla giapponese... Abbiamo... Un laghetto... Tipo... Giapponese... Un ponticello... Sul lago... E abbiamo... Addirittura... Il bambù... E anche bambini... Stile... Giapponese... Il bambù... Giapponese... Il bambù... Eh cari amici... Eh... Mauri... Si può passare sopra... Lì al Foso... Al fiume lì... E... E' buono... Dai... Lì ci poi... Ci deve essere una scuola... Tra l'altro... E... E... Si... E' qua il ponticello... Che dicevamo... Ebbene Mauri... Concludiamo la giornata così... Eh... Sì... Da... Da questo parco... Da questo parco... Da questo parco di Ugo Foscolo... Vi saluto... Marzo... E... Marzo... E... E... Gennaro Germini... E... Ci vediamo al prossimo video... Se state... Seguiteci perché... Sarà molto bello... Seguiteci perché... Poi faremo cose grandi... Non dico niente... Insomma... Si... Benissimo cari amici... Vivere così... Guardate oggi come... Eh... Riconquistiamo la libertà... Seguite... 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 Ci vediamo... Torto... Ci sei... Comprgo... Unerstire... Da... Minuto cari! Unerstire... Ecco... Unerstire...